San Francesco d'Assisi e il Beato Carlo Acutis, due pilastre di santità per la cittadina di Assisi e non solo. A queste due figure la diocesi di Assisi e la fondazione santuario della spogliazione della cittadina Umbra hanno voluto dedicare un premio. Che significato ha questo premio e che cosa rappresenta? Il premio si intitola Francesco d'Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità. Vuole essere un segno, dicendo la parola un po' grossa, una piccola profezia di di un'economia possibile, di un'economia diversa, all'insegna della solidarietà e anche della generatività. Noi pensiamo a situazioni del mondo, soprattutto in condizioni di grande povertà, in cui gente povera, ma con dei talenti, mettendo insieme il capitale della fraternità, cioè la loro capacità di collaborare, la loro capacità di progettare insieme, la loro voglia di spendersi non soltanto per sé, ma per le loro famiglie, per le loro terre, riescano a realizzare progetti, almeno a cominciarli, avendo bisogno naturalmente di una presenza, di un accompagnamento, di un'assistenza che noi vogliamo offrire, perché dappertutto è possibile cominciare dei percorsi positivi, dei percorsi creativi. L'economia della fraternità è nata dal Vangelo, la comunità cristiana primitiva, dove si metteva tutto in comune e Francesco Rassisi l'ha fatta propria, rinunciando ad avere delle cose proprie perché la società imparasse a gioire del bene comune e a costruire il bene comune. La fondazione andrà a premiare l'edizione 2022, però eccellenza c'è stata già diciamo così un'edizione zero con un vincitore speciale? Sì è stata un'edizione inaugurale, abbiamo scelto un istituto di eccellenza della carità e della solidarietà che è il nostro istituto serafico che si prende cura di disabili gravi ed è nato 150 anni fa ad iniziativa di un grande francescano, San Ludovico da Casoria. Abbiamo pensato che questa esperienza, i valori che essa presenta, la maniera con cui si esprime potesse essere davvero la spiegazione più netta, più calda, più significativa di ciò che il premio Economia della Fraternità vuole rappresentare. Eccellenza, il premio è aperto a tutti, singoli, associazioni, imprese, fondazioni? Si rivolge a tutti, preferendo però i giovani perché hanno davanti un futuro e vorremmo in qualche maniera anche sollecitarli come ha fatto il Papa con l'iniziativa Economio Francesco e preferendo poi le situazioni davvero più provate del mondo. Naturalmente abbiamo situazioni provate anche qui in Italia, anche in Europa, ma ci sono continenti che purtroppo hanno una situazione di povertà tanto più grave. Dunque è un appello rivolto in tutte le direzioni. Dovunque si verificano queste capacità, queste possibilità di mettere in moto un processo generativo, lì il premio vuole in qualche maniera arrivare. Ci sono tempi e modalità da osservare e alla fine un riconoscimento economico che verrà assegnato, giusto? Sì, ci sono degli aspetti simbolici che verranno naturalmente messi in evidenza, ma c'è anche un aspetto economico. Abbiamo stanziato con l'aiuto della provvidenza di tanti benefattori, 50 mila euro per questo premio. Ci sono dei tempi, bisogna che i progetti arrivino entro il 31 dicembre. Sarebbe stata quest'anno una prima scadenza il 31 ottobre, ma trattandosi di un primo anno abbiamo pensato a dare più tempo perché la conoscenza di questa iniziativa diventasse possibile in tutte le regioni del mondo. Dove si possono trovare tutti i riferimenti? Su quali siti internet? C'è il sito della diocesi, c'è il sito del santuario della spogliazione con un sito speciale per il premio Francesco D'Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità.